Secondo te il VIP in quanto tale ha una differenza dal divo, il divo degli anni 60, cioè quello che era irraggiungibile, che era una stella polare del gusto, dello stile e quindi non si sta svendendo un po' troppo la sua immagine utilizzando i social media. Allora, c'è una cosa, il VIP di oggi vorrebbe essere vivo, ma nel momento in cui utilizza una piattaforma come quella di Twitter in un modo o nell'altro deve scendere dal piedistallo, si rende conto che non è più in tv dove può raccontare tutto quello che vuole, poi magari i mugugni vengono distanti da lui, lui non li vede neanche, quindi poi lo vedi magari sull'audience, sull'alte... Deve negoziare la propria realtà, anche se in virtuale. Esattamente, quindi deve scendere un pochettino a compromessi, quindi lo vorrebbe. In realtà, secondo me, però nel momento in cui lo fa non si svende, ma ci può solo guadagnare, nel senso che comunque per raccontare di più di se stesso, comunque fare un po' più di marketing, tra virgolette, della propria immagine in un mondo come quello attuale, ci può effettivamente solo guadagnare, sia da un punto di vista comunque di progetti che poi possono scaturire anche da quello che poi lui... cioè dall'immagine che si crea anche online e poi anche direttamente sul creare una fidelizzazione con i propri fan, perché per esempio è emblematico il caso di cantanti come può essere Emma o Marco Mengoni, che a Sanremo sicuramente sul Televoto hanno beneficiato del fatto di avere comunque un seguito molto grosso sui social network, perché nel momento in cui tu fai partire il battagio qualche giorno prima o qualche mese prima, insomma, in base al tuo piano comunque strategico, e li coinvolgi e a mano a mano li attivi, proprio nel momento in cui ti servono, cioè di fatto aver creato un tuo bacino di fan, una tua community coesa che si crea intorno a un interesse che poi sei tu. Certo. Hai singolo su quant'altro, insomma. Quindi sfatiamo la leggenda che Twitter non muove il voto, almeno il Televoto lo muove. Beh, almeno il Televoto, diciamo che per come la vedo io, i social network possono cristallizzare un tuo pensiero. Sì. Quindi nel momento in cui tu già se un po' comunque vorresti effettivamente portare a termine una certa azione, che nel caso dei VIP possa essere il voto, ma potrebbe essere un acquisto per le aziende e quant'altro, diciamo il fatto comunque di andare online e sentire anche i pareri delle altre persone può rafforzare un po' il modo di pensare. Certo. Ad oggi diciamo non c'è alcuna analisi che dimostra che effettivamente la decisione la prendi grazie ai social network. Certo, quindi le conversioni... Le conversioni ad oggi sono difficilmente... Misurabili. Misurabili, sì. Certo. E quindi possiamo anche parlare di VIP in politica. VIP in politica, assolutamente. Quali sono quelli che si muovono meglio? Ma allora, quelli che si muovono meglio paradossalmente sono quelli di fascia media. Nel senso che... Tipo Pippo Civati. Per esempio. Per esempio. Beh, lui diciamo che Pippo Civati conosce molto bene il web, quindi è uno di quei politici che comunque è riuscito a muoversi bene, no, anche nella sua professione, anche grazie comunque a quello, all'ascolto dei cittadini online. Quindi sicuramente lui è uno proprio degli esempi di politici. Diciamo che quelli che si muovono peggio sono quelli old style che arrivano dopo sui social media. Lo vedono più come un qualcosa che va fatto. Quindi devo dire che poi si è parlato di tantissimo di social media politica, soprattutto nelle ultime elezioni. Quindi si sono creati due schiaramenti. Allora, i social media spostano o non spostano i voti? Chiaramente perché ho già risposto come la penso. Sicuramente i social media sono interessanti da due punti di vista. Uno dal punto di vista dell'ascolto, sicuramente riuscire, riesce ad ascoltare un po' meglio quello che pensano i cittadini. È una piattaforma sempre attiva, un focus group enorme che effettivamente se i politici utilizzassero nel modo adeguato ci sono tantissime idee, tantissime voci che potrebbero essere ascoltate e portate in Parlamento. E in regime di spending review potrebbero anche economicizzare sulle loro attività di sondaggi. Sì, assolutamente sì. Quindi abbiamo parlato di VIP dell'entertainment, politici, ci sono anche i giornalisti. E i giornalisti cosa fanno con Twitter e social media in genere? Si muovono bene, sanno utilizzarlo oppure devono fare dei corsi di recupero? Eh, allora i giornalisti diciamo ci sono due schieramenti. Ci sono i giornalisti che sono un po' soffrendo i social network perché rivedono comunque qualcosa che è di inutile poi sostanzialmente, no? Qualcosa che è un ulteriore perdita di tempo. Invece ci sono quei giornalisti che li utilizzano come uno strumento per informarsi più velocemente, per arrivare direttamente alla fonte della notizia, per scambiarsi anche opinioni, quindi approfondire magari eventualmente un'informazione. Quindi diciamo che qui non è tanto una questione anagrafica, cioè non sono i più giovani che sono più bravi dei più canuti, no? E' più una questione comunque di curiosità, come dicevamo anche prima, no? Di curiosità verso il mezzo e di vederci effettivamente un valore aggiunto. Perché poi chiaramente vivendolo ti rendi conto che per esempio creandoti le liste, no? Seguendo determinati personaggi, determinati media internazionali e quant'altro effettivamente puoi fare un uso di Twitter che ti aiuta anche nel tuo lavoro quotidiano. E quindi su questo effettivamente un po' di formazione servirebbe, per come la vedo io, servirebbe anche un po' di lavoro a livelli alti, proprio in termini di ordine dei giornalisti, di associazioni e quant'altro, per far capire che in realtà non è più un qualcosa, il social network non è più un qualcosa che puoi evitare, che puoi lasciare da parte. Ma anzi sono un'opportunità per te per evolvere un po' nella tua visione della professionalità del giornalista. E quindi da lì costruire, perché chissà cosa arriverà in futuro. Qui è un processo che sappiamo dove siamo ad oggi, sappiamo come era prima, ma ancora non sappiamo come sarà il futuro. Quindi forse è il caso che appunto quella corrente di pensiero un pochettino, poco alla volta, si sposti verso l'altra. Certo. Ecco, e quindi visto che stiamo parlando di pettegolezzi, inevitabilmente parlando di Twitter si deve parlare della madre di tutti i pettegolezzi, che sono i fake. Che sono i fake? Sono i fake e sono anche la campagna acquisti dei fake per far popolare i propri follower. Come si muovono i VIP in questo senso? Allora, in questo senso... Come si muovono i pubblici, aziende, personaggi pubblici, acquistassero comunque follower e anche fan su Facebook in modo non proprio limpido. Sicuramente non è un modo, come la vedo, che nel lungo termine porta dei benefici. È ancora cosa che nel breve termine può servire per fare, tra virgolette, il figo. Fa vedere che velocemente tu sei riuscito a conquistare un certo seguito. Ci sono effettivamente anche tra i VIP dei casi che sono quantomeno dubbi, quindi delle crescite molto veloci, ma anche delle perdite di follower molto veloci. Ecco, come mai ci sono delle perdite? Queste sono dovute a vari fenomeni. Nel senso che, appunto, come fai ad acquistare follower? Esistono dei servizi online che per pochissimi euro ti permettono di darti delle slot di 10.000, 20.000 e anche più follower. Chiaramente dietro ogni servizio esistono anche delle condizioni di utilizzo del servizio. E ci sono dei servizi che effettivamente hanno una scadenza, quindi andrebbero sostanzialmente rinnovati. Quindi anche i fake andrebbero rinnovati nel tempo. Chiaramente se questo non lo fai, cosa succede? Che alla scadenza ti decade effettivamente... In massa. In massa. E questo è una cosa. Ed è un indicatore, quindi. Ed è un indicatore, chiaramente. Te lo accorgi perché effettivamente ti rendi conto che magari anche in una sola notte tu perdi parecchie migliaia di follower. Poi c'è anche un lavoro di pulizia che sta facendo Twitter nell'ultimo periodo. Perché effettivamente c'è stata un po' un'esplosione dei fake. Ci sono anche, sono nati anche dei servizi online che hanno provato a calcolare anche su personaggi strafamosi come anche Barack Obama, per esempio, le percentuali di fake che sono all'interno del più grosso del numero di follower. E quindi questa cosa chiaramente ha chiamato anche Twitter a fare un po' di pulizia. Quindi chiaramente non so tecnicamente come avviene questo, però stanno cercando di rastrellare. Ci sono dei periodi in cui vengono veramente rastrellati i profili fake. E quindi chiaramente se tu hai una grossa percentuale di fake all'interno dei tuoi follower, di colpo, pam, il tuo numero di follower scende di colpo. Devo dire che di casi sospetti, io analizzando appunto con il mio osservatorio mese per mese come crescono i follower dei VIP, mi sono reso conto che in alcuni casi non crescevano, anzi decrescevano nel mese. E di casi, per esempio, giusto per fare dei nomi, ma ripeto sono casi sospetti, mi sono accorto appunto di strani decrescite per Dolce Nera, Facchinetti che addirittura di recente ha perso 208.000 follower in un solo mese, tantissimo, era arrivato praticamente ad avere quasi 700.000 follower e si è trovato in poco tempo appunto ad avere nemmeno di 500.000 e poi di recente anche la pornostar era anger, pure lei ha acquistato follower, sembra, sempre, non lo si compiere, ma sempre. Non c'è una certificazione in merito. Chiaramente non esiste una certificazione di acquistare follower. Certo. Puoi studiare appunto questi trend e renderti conto che qualcosa di strano è avvenuto, poi non lo so, pronto comunque a scoprire che di spiegazioni ce ne sono altre molto più semplici. E invece i fake, ci sono, girano ancora dei fake di personaggi famosi? Sì, girano e c'è da dire che Twitter permette i fake, nel senso che i fake vengono permessi da Twitter nel momento in cui sono delle vere e proprie parodie. Quindi essendo parodie non mettono in dubbio di fatto la credibilità del VIP e anche da parte dei possibili follower è abbastanza chiaro che quello non è il VIP reale. Certo, come nel caso di Alemanno mi ricordo. Esatto, esatto, come nel caso di Alemanno. Il caso di Alemanno è un caso per esempio molto divertente, che è un caso che comunque di fatto è stato molto seguito in rete, è cresciuto molto velocemente, però appunto non è stato attaccato né da Twitter né in generale, penso neanche Alemanno, si sarà fatto qualche risale. Non sarà stato contento di alcuni tweet e quant'altro, però sicuramente diciamo era un po' meno a rischio. Diciamo che i fake che sono un pochettino più a rischio sono quelli di colore i quali si cercano di accrescere di fatto il numero di follower dietro a un progetto, quindi di fatto cercano di parassitare la popolarità di un VIP per un altro obiettivo, che potrebbe essere poi rivendere l'account, potrebbe essere per esempio fare spam, quindi spammare link a tutti i follower, questo succede molto anche su Facebook. Ci sono dei casi, per esempio io mi ricordo Alessia Marcuzzi, un fake è arrivato ad avere anche 70.000 follower, quindi prima di riuscire a scovarlo e diciamo attaccarlo, anche perché lì in quei casi devi muovere anche l'ede legale, devi muovere anche, non è proprio una passeggiata, ci è voluto parecchio prima di far chiudere l'account. Ma quindi ci sono dei fake che esistono in presenza del vero profilo? Sì, diciamo che, voglio dire, adesso è anche più semplice, perché se prima era difficile farsi autenticare l'account, adesso esiste un vero manager in Italia di Twitter, cosa che prima non esisteva, e probabilmente le procedure sono state anche un pochettino più sveltite, quindi ho notato per esempio nell'ultimo periodo un aumento di account di BIP con il simboletto del verificato. Quindi in questi casi, per esempio, non ci si preoccupa, perché possono esistere anche miliardi di fake, tanto non ti interessa. Più che altro magari devi monitorarli per vedere se quei fake non ledono in qualche modo la tua credibilità e la tua immagine. Diciamo, era un po' più difficile in passato, perché in passato, sicuramente, soprattutto nel momento in cui il BIP non aveva una reale presenza su Twitter, il fake era preso in molti casi come vero, e quindi per esempio ci sono stati anche dei grossi spondoni, prima si parlava per esempio del fatto della verifica delle fonti, e quindi ci sono stati anche degli spondoni anche di giornalisti che hanno ripreso una dichiarazione di un BIP come reale, e poi in realtà era un fake, e quindi sono chiaramente cose che non fanno bene, appunto come dicevamo prima, anche la professione del giornalista. Quindi diciamo che ad oggi questo fenomeno dovrebbe un attimino ridimensionarsi, anche se di fake in giro per la rete ce ne sono ancora tantissimi. Ovviamente. Quindi uno dei consigli che probabilmente avrei dato ai tuoi amici BIP è quello di presidiare la propria identità digitale. E nel caso in cui loro non avessero un'identità digitale, dichiararlo ove possibile, nel senso se hai un sito internet, per esempio, e molti decidono sul sito internet ufficiale, a caratteri cubitali scrivere, non esiste un profilo ufficiale su Facebook, Twitter, né nessun altro social network. Così è abbastanza chiaro. Certo. Cioè uno basta che va, verifica, perché poi quella è la prima verifica che devi fare, se tu vai sul sito ufficiale del BIP e vedi che c'è il link a Facebook, c'è il boxettino classico, con numero di follower, eccetera, eccetera, è chiaro che comunque quello è il profilo ufficiale. Ovviamente. Al contrario, se c'è proprio la dichiarazione ufficiale che ti dice guarda che io non ci sono su Facebook, è chiaro che comunque qualsiasi profilo tu andrei a trovare è un fake. Certo. Quindi quello è un altro modo anche comunque di cautelarsi, di cautelare la propria immagine. Certo. E questo alla fine poi sono consigli che tu dai nella tua professione vera, che è quella appunto di digital strategic, di esperto di pubblica relazione online e di web marketer. Sì. Che sono le stesse identici consigli che le aziende dovrebbero sostenere per avere la propria identità e il proprio brand virtuale. Esatto, è stato proprio questo il gioco che mi è piaciuto, nel senso di studiare un pochettino i VIP, che sono comunque diciamo una categoria molto esposta, e vedere appunto i loro errori, i loro successi, e poter imparare da loro. Quindi in questo modo davvero dal singolo che vuole imparare a fare personal branding e crescere in rete, crescere la propria popolarità e credibilità in rete, all'azienda per esempio che vuole fare social media marketing. Quindi effettivamente imparare come comunicare al meglio, qual è il giusto registro di comunicazione da utilizzare, quali sono i tool che funzionano meglio, quali sono i contenuti più interessanti in rete. Quindi devo dire è un interessante banco di prova. Alla fine però un po' di pietregolezze bisogna farceli tra di noi, per cui perlomeno ci devi dire qual è secondo te il miglior profilo Twitter di VIP che esiste. Allora, senza ombra di dubbio, Giovanotti, proprio in assoluto. Come mai? Perché Giovanotti secondo me è stato bravissimo, questo anche grazie ovviamente a uno staff enorme che lo segue, sia dal punto di vista della casa discografica, del suo stesso staff, dell'ufficio stampa e quant'altro. Lui usa Twitter sia dal punto di vista personale, quindi raccontando comunque il dietro le quinte, per esempio, dei tour, diciamo anche pensieri suoi, anche in quelle che sono anche i suoi studi, perché lui è anche molto introspettivo e quant'altro, ma anche poi ha uno staff che lo supporta sulla parte di marketing. Quindi ci sono moltissime idee anche di sperimentazione che nell'ultimo anno ha portato avanti, come per esempio nel caso del lancio dell'ultimo album Backup, e lui ha chiesto proprio ai follower di raccontare il ricordo legato ai suoi 25 anni di canzoni, quindi ha creato proprio un hashtag Jova Timeline che è girato tantissimo. Oppure per esempio, lui sperimenta anche nuove piattaforme, quindi di recente proprio in tour, sta usando Vine per costare dei brevi video di quello che succede appunto nei momenti, appunto dal soundcheck, alle prove e quant'altro. Quindi per esempio questi sono altri modi interessanti. Oppure quando ha raggiunto il migliore e mezzo di follower, ha deciso di fare un vero e proprio evento su Twitter, quindi in streaming, per i soli follower, ha diciamo con la chitarretta, ha messo comunque a suonare, ha risposto alle domande dei follower, quindi devo dire che trova sempre modi nuovi di coinvolgere la propria community, ma allo stesso tempo, senza essere i poveri, anche fare marketing. Certo, quindi è un esempio da seguire. Assolutamente sì. E invece, questo è più difficile, il peggiore. Allora, i peggiori, sarebbe brutto fare dei nomi, però i peggiori sono quelli che sono troppo autocelebrativi, sono quelli che si arrabbiano subito e quindi attaccano anche con epiteti, diciamo un po' coloriti, diciamo chi non è d'accordo con loro, sono quelli che appunto abbandonano magari Twitter al primo problema che incontrano, sono quelli che postano troppo spesso o quasi mai, quindi diciamo i due eccessi se vogliamo, quindi diciamo sono quelli che non fanno quello che abbiamo raccontato fino adesso. Ma è possibile riconoscere se dietro a un profilo c'è lo staff oppure c'è il vero e proprio personaggio? Allora, devo dire che dove non c'è, allora, dove c'è uno staff ma non viene dichiarato prima o poi lo sgami. Sì. Il caso emblematico per esempio era stato anche proprio quello di Ligabue che alle Iene ha dichiarato io non so nemmeno come si usa i Twitter. Sì. Quindi in alcuni casi per esempio sembrava ci fosse appunto un virgolettato diciamo di Ligabue, ma poi di fatto era stato postato dallo staff, quindi questa non è mai una cosa bella, cioè è bene sempre dichiararlo, è anche vero che uno sguardo attento si rende conto che la maggior parte appunto dei tweet sono dei tweet di marketing, quindi c'è questa cosa. Ci sono invece dei profili che sono seguiti secondo me in modo molto professionale, nel senso che quando è il BIP a scrivere si firma. Sì. Quindi comunque secondo me la trasparenza premia sempre, perché poi è qualcosa che ti permette di creare una relazione autentica. Anzi forse è anche bello che tu sai su dieci tweet aspetti proprio quello che viene scritto dal BIP, quindi è anche un altro modo se vogliamo interagire. Di esclusività. Di aspetto positivo di questa cosa. Anche di non avere una sovraesposizione. Esatto. Continua. E poi diventa veramente più autentico. Infatti. Sì. Certo. Bene Stefano, a questo punto è che poi possa essere collocata nella sua giusta dimensione. Ok, allora però quando diventerò BIP mi dovrei dare tu i consigli. Ah beh certo, questo sicuramente. Grazie e alla prossima. Ciao. 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 Ciao.